Dimmi una parola sola che mi sfiori e che mi faccia muovere verso di te, ora E' lui, Marco Mengoni, il vincitore di Sanremo e il super ospite della terza tappa del Radio Norba Battiti Live. Questa settimana il grande spettacolo musicale prodotto dal gruppo Norba fa tappa a Trani, un ritorno dopo alcuni anni di assenza. L'appuntamento è in piazza Quercia, nella scenografia naturale del Porto. Di alto livello il cast di artisti è allestito dal direttore artistico Alan Palmieri. A Trani torna ancora una volta a Ola, autore della canzone più ballata dell'estate. Ci sarà inoltre un grande cantotore, Francesco Sarcina, frontman delle vibrazioni, al suo debutto da solista con una canzone tra le più trasmesse questa estate in radio. Voglio girare tutta l'aria, fare l'amore, per l'amore, per l'amore, per l'amore. Per la prima volta nel Tour 2013 a Trani, sul palco di Battiti, saliranno il Vizzoro Assoluto, formazione amatissima dei giovani, e poi Dolce Nera, altra grande interprete della musica italiana. In scaletta anche un giovane talento, Alessandro Coli, e poi Nesli, anche lui molto amato dai ragazzi, e tre voci femminili raffinate, quelle di Annalisa Scarrone, di Nathalie e dell'italo marocchina Malika Ian. A far ballare tutti ci penserà Gabri Ponte, DJ famosi di tutto il mondo, e autore di alcune delle hit più suonate nell'epister a ballo. Musica dance dunque, ma anche la samba della cantante spagnola Ben Niasio. E poi, come ha anticipato, Marco Mengoni, un giovane talento diventato in pochi anni un autentico big. Insomma, una serata assolutamente da non perdere. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta e in contemporanea in radio su Radio Norba e in tv su Telenorba Center e Radio Norba Television. Si comincia poco dopo le 21, ma sin dal pomeriggio sarà possibile assistere al soundcheck, a cui interverranno gli artisti che si esibiranno, e partecipare alle attività di trattenimento proposte dagli sponsor. Appuntamento dunque domani in Piazza Quercia a Trani. Musica 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 Grazie a tutti.